Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Natascha Stefanenko conquista i fan con un ritratto strepitoso, insieme a lei le amiche di sempre, chi sono? Bella è sensuale fin dai tempi dell'esordio, i suoi occhi verdi e il sorriso unico hanno conquistato milioni di fan che ancora oggi la seguono e supportano in ogni situazione Natascha Stefanenko è un'attrice e conduttrice che si è fatta conoscere in passerella dopo aver vinto del Look of the Year, nel 1992, quando è stata eletta reginetta di bellezza a Mostra Molto attiva sui social, ha condiviso una foto insieme a due amiche, già diventata virale, i fan non hanno potuto fare a meno di ammirarle Natascha Stefanenko, la sua carriera e alcune curiosità.Classe 1969, nata in Russia, ha sfruttato la sua bellezza per farsi conoscere per poi esplodere grazie al suo talento e alla sua solarità Ha lavorato come modella per campagne pubblicitarie, poi è arrivata in tv nel programma La Grande Sfida L'abbiamo vista in trasmissioni come Target, Festival Bar, Taratata e in serie tv come Distretto di Polizia, Nebbia e Delitti Oltre alla sua carriera, cosa sappiamo sulla conduttrice? Nessuno sa che la Stefanenko ha una laurea in Ingegneria Metallurgica, conseguita all'Università Nazionale di Scienze e Tecnologia di Mosca, all'epoca seguì il percorso del padre che è un ingegnere nucleare Ama lo sport e la cucina, infatti, anche sui social non perdi occasione di condividere ricette o allenamenti quotidiani Tre amiche e una foto strepitosa.Seguita da più di 200.000 follower, Natasha Stefanenko non può fare a meno di pubblicare scatti mozzafiato che fanno impazzire chiunque Nell'ultimo post condiviso su social, l'attrice si mostra insieme a due amiche, Barbara Snellenburg e Filippa Lagerbeck Il selfie è virale ed ha lasciato tutti a bocca aperta, in primo piano i volti delle tre VIP, un'esplosione di sensualità Occhi verdi, sorrisi strepitosi e tanto amore, poi una frase ironica Tre ci vette sul comò.Tra i follower, qualcuno ha commentato.Una più bella dell'altra Poi ancora.Un tres di regine.Qualcun altro ha aggiunto.Mai viste tre ragazze belle così insieme Con la foto pubblicata da Natasha siamo tornati indietro nel tempo, nonostante gli anni passino e le cose cambino, le tre hanno ancora bellezza da vendere Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video